io non voglio aver mal di testo, voglio giocare normalmente volete andare a lufo ma quale però freddo? ma quale lupo? non c'è nessun lupo! Lufo! Ma è nato letto! Lufo! Vuoi dire lufo? Ah, lufo! Eh? Cosa grande? Che ti porta a prendere le AWP? Ma scusa, ma ti ti ricorda di tenere un colpo solo o? No No c'è questo punto, no, eh... ho fatto c'è un 2% di batteria, bello, lo stanno andando quello, quello, quello... Allora, non fai un cazzo delle batterie, devi stare in giro, eh... però, io sto già ricaricare il mio controllo di riscaldare... Questa è anche daire senza giocare, a me? Vabbè, non mi ci chiede la line! Dovente a me proprio preciso, eh... Vedi, sei obbligato a giocare Ma tu, mi vedi? Sei obbligato a giocare, ma non mi so fare... eh... C'è uno qua davanti, ma sono armi sopra liperò, ma non mi conviene da sopra, eh... andiamo sotto a prendere le armido, poi andiamo sopra... ci vado dentro cederanno mai a me dice l'arma infinita poi la figlia Così gli spara questo coglione qua C'è uno qua, lo giudo eh Ora cazzo, a noi è attivato dopo Questo demma, vedi uno a fottermi Leandro! Devo prendere io Da me è attivato però Che urla cazzo Non so se da me... Ah, mi sta prendendo eh! Io vado eh! No, mi sta prendendo eh, mi sta prendendo Voglio venire pure io, voglio venire E per togliere l'ombrello però eh Voglio venire pure io Eh, manco io mi sa che riesco Sennò è ritardo e poi No, ma non riesco andare in più Non riesco a prendere l'ombrello, vabbè Ma andiamo a tirare l'ombrello Ecco, che mi ha preso eh Ma che a me mi ha preso Non era al centro comunque Allora non sa niente Guarda che ti prende anche sotto comunque No, ma non c'entra infatti piglia anche Io mi ho preso di lato A me non mi hanno preso Ah, ma allora eh Ma dico, anche se vai sotto Non hai detto che ti pigliano forse Dipende se sei fortunato Ma... 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 Ma perché in 3 si fai qua Mi serve Ma cazzo lo muore Ma che succede? Ma che succede? Ma che succede? Ma era un po' i denis Oh merda Ma cosa è che bisogna fare qua in pratica? Rai, per tutto In pratica dovete prendere i bimbi, no? Intanto... Si fanno le stelle e... Ma che cosa denimi? Le stelle e ti puoi prendere la roba No, vabbè proprio voi E' un po' di giallo E' un po' di giallo Ma che cosa puoi prendere? Ma che cosa puoi prendere? E' un po' né Ma che cosa puoi prendere? Ma che cosa puoi prendere? E' un po' che c'è E' un po' di giallo Prendete i cosi... le falle, prego Lì ti danno più tempo per avere armi non Sì, vedetevi prenderlo! Ci sono due fermi, l'hai visto? Ci sono due stelle, oh! Quelle sono armi non comuni Mi servono 4 stelle per epico Mi servono 4 stelle per legionario Lo che vedi già, no... Certo, sì... O merda! O merda da! O merda da! Ci sono quelle che vanno! Bello, con me no! Sì, ho no! Aaaaaah, spagia a topor 4, tra io vengi! C'è, è è è è. Deve colo da arra? Ma c'è, non c'è? C'è, non c'è? Anche qua è l'ho migliore Lippico! Bisogna prendere l'orbitico eh? Ma doooow! Nooo, ne prendevo 5 Ma sai che abbiamo... Ancora non era finito il tempo, vedi Oh merda Vedi, ma poi apriva... No, vabbè, premita a me, premita a me però Ma che pumpa d'oro! Oh, scar d'oro e pumpa d'oro, è pazzesco Non fai utilizzarli qua, che sfiga è No, ma ti danno tutto d'oro se hai 5 stelle Ahhhh No, che schifo Dai apri, perché non apri? No, dai, ti bevi quanta d'oro, nooo Se mai mi mettermi di merda, c'è stata una cappa d'oro Hai permiarsi eh, ma che f***o Sperto ora è pumpa d'oro, ma è f***e Cosa? Sperto ora è pumpa d'oro, ma dai C'è qualcosa che mi vuole prendere Quello che diamo, raga, oh E andiamo a prendere Eh venite da me che io sono da solo C'è ancora un tetto? C'è ancora un tetto? Mi si vede il deltaplano a me Mi si baggardo, lo vedo io Leandro Di gli altri che c'è tre scarpe Ha detto Pierino che c'è tre scarpe Dammi a tre Dammi a tre scarpe 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 Io non sono entrato Però che f***o c'è, mi hai dato ottermi di merda Ho poche munizioni Non c'è qualcuno qua Chi la vuole mi viene da me Oh merda c'è qualcuno eh No Mi è caduto Chi? Lo prendo io Lo prendo io Lo salvo No lo vedo Ok no E io non sono Eh vabbè Lo so ma quel pompa c'aveva Grazie al cazzo Cosa hai mica? Comunque lo potete uccidere Comunque lo potete uccidere Comunque lo f***o eh Eh f***o Eh f***o Gli ho fatto due volte a trento eh Gli ho fatto due volte a trento eh Gli ho fatto due volte a trento eh Gli devo armi da vicino Mi è arrivato addosso Che devo fare? Ma io non voglio morire mai Voglio morire Corro via Oh dammi se vai a piegare la scheda no Eh che c'è di stati io vedo eh Guarda che... Non c'è munizioni eh Ma dove hai usato? Sembra? Dove hai usato di stati io Mi eserciati Si ma far Guarda che non mi è scidita Tu Visi Non c'è munizioni Non c'è munizia Ma tu sei scatto Ma tu sei scatto Ma pure il pompa d'oltre Mi metti Non c'è Ma dei pigli Non c'è 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 un cazzo, forse non hai capito no no, c'è un cecchino d'oro, cioè, gliel'hanno preso, maledetto ma scusa Zeus, ma allora potevi andare tu, no, a prenderla scheda e fai vinti qua e poi dico che mi prendi tutto, allora no, ma meglio essere assieme, no no, sono senza munizioni, forse non hai capito ah, vedi, porca, non ti crea, non ti crea ancora una volta c'ho ragazzi adesso però ma vai di che aspetta eh non sei c'è gente eh ma non c'è andata non c'è andata non c'è quello, vedi, non c'è ma gli altri chissi, ma beh ho ucciso uno, ho fatto uno, ho fatto uno ho fatto uno il gente si è sciotto vada 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 in sotto e allora ho vado via o uno te l'ha ucciso o uno eh ma c'è qualcuno che spara non sapete dove, cara vero nome di Zeus è Giulia non c'è quello che spara 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 eh sì, tutto io ho fatto beh, sei tu vivo già mi dico che qua è qua uno non c'è quello che spara non c'è tutto andro dai oh eh non c'è rie e ma non è niente potrebbe essere un porto posto qui subito su fuoco mi fasse dire non posso passare bro non può essere un po' non fa passare se vado dritto di qua come faccia vedi che mi fa vabbè ma vai così dove l'hai preso quel cazzo sono fortissimo gg grazie almeno andiamo sopra leandro ti porto una roba quanta roba c'è di io però c'è meglio qualcosa vedi vedi ma da me c'è un bel lutufo ho ucciso tipo 4 per scuola di filo vuoi ma da me c'è altro pieno di lutufo eh c'è cosa che mi cura tutta adesso i dei vedi ma è tutto bianco lo scardò dov'è vieni qua vieni qui vieni qua sono qua vieni qui non sale no non sale vabbè è una cosa che ti va bene però qua c'è altra cosa qua non mi dici le ho fatte tipo 3 le ho fatte mi dici scardole non mi dai hai visto lui è troppo forte non c'è niente eh ha preso tutto lui ha preso eh grazie vabbè tanto non fare dalle vuole scendone ma perchè scendino scendone no 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 da me no 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 da me vuoi mi prendere la verde la pistola lì troppo forte è una cassa cosmica selvaggia lo facciamo il coso cosmico qua ragazzi dice che siamo qua facciamolo no vai dentro qua si è un coso cosmico eh serbato andiamo a fare il coso qua va bene non c'è ma che spiegaccio no vabbè che deve fare c'è chiamola bene dai muoviti Pierino mi piace mangio a piedi ma c'è qualcuno che spara ti da c'è qualcuno che scappa le cose che fanno ma io gli sparo dai no staccarla ti serve per scappare ti scemo ma c'è gente dai e di no 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 lo rewrite guarda quello che vuoi arrivare qua, c'è gente oh noiii c'è qualcuno qua eh oh mi aiutate? un attimo raga è morto oh raga qua è morto eh che magica la facciamo cosi alle altre c- 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 ma nooo aspetta aspetta oh l'hai installato almeno fuori dalla testa faccio un altro no ma ce le squadra prende qua eh raga gg è bianco, è bianco quel coglione è quel coglione è che vuoi gli scudi grandi raga addio coglione quanto cazzo costruisce c'è un altro qua ci sono due scudi grandi raga gg da me, da me, da me è buono, l'ho fatto cadere chi cazzo è? ma dov'è? non lo so, è sopra, è da qualche parte non mi lo fa prendere ho rotto il cazzo sto coglione ma cazzo è? è invincibile l'ho ucciso io, l'ho ucciso io è morto? si si è morto è morto ho colpi di pompa dammi, colpi di pompa adesso te li dai io, basta che sei muto per favore ho levati, levati, levati ma dammi un po' di pompa ma se vuoi da colpi di pompa ma ancora prenditi dai, non hai paura dimmi nula dai che non ho fatto un cazzo io si io si io ho fatto un cazzo ho fatto i mini scudi facci i mini scudi facci i mini scudi ma chi è? ma ci sono i cosi indemoniati dove è? ma non sono impossessati dai 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 il polo un po' lo mollo ok e che cazzo ma che cazzo ora è stato trattato c'è 3 contro e quando è giusto il concetto attuale a staglia e non lo voglio poi sulla mia testa per il batico di anazzo dove vai c'è lo spara bene da ma dammi dammi antoridio parola l'uomo c'è qualcuno e ciò che non te li puoi fare nooo eccolo c'è uno che è saltellati che cazzo no son due c'è uno che è il segnalo c'è uno che è il segnalo vedi quattro vedi quattro dammi la slurpata dai mix no no vuoi più madooo ho uno l'ha battuto con il cicchino no ma non c'è di quella roba tu qua lo ha massacrato questo qua eh dai ma non bruciarmi dai dai non bruciarmi dai come stai mi rendendo no ci danno a fuoco andiamo a fuoco che c'hai ha battuto ha battuto anche quello anche quello qualcuno mi laser alto eh quella a destra lì bastardo che cazzo che cazzo è inizio a te che tu lo spado bene ma io ho fatto come la leva uno che è bassa adesso oh chiè colpi pompa per favore ehm ecco che c'ha colpi pompa colpi a salto per me è che c'è ah raga ma si sta facendo fuori i 6 vedete colpi pompa ci faccio due e c'è no mi evitate con quello eccomi nato dietro di te dietro di te sono grazie ti ho battuto da eh E allora... Io vado, ciao, voglio... Guarda che sto preparando, eh... Dove che va? MADOOOOO! Eeeh, beh... Così si gioca!